È il Comune di Risuttano che partecipa a un bando indetto dal Ministero della Cultura e che propone un progetto per la rigenerazione dei borghi storici che ne consentirebbe la valorizzazione e riqualificazione. Ci muoviamo nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, dove sono diverse le opportunità per rilanciare i piccoli siti culturali del patrimonio rurale italiano con finanziamenti previsti dall'Unione Europea. Così proprio il Comune siciliano ha presentato un progetto che vedrebbe un costo di poco più di un milione e mezzo di euro per intervenire valorizzando il cammino della Via De Frati, oltre a rilanciare i borghi storici e a recuperarli. L'intento sarebbe anche quello di valorizzare il sentiero dove verrebbero ulteriormente integrate sia la segnaletica che servizi vari, tra cui l'inserimento di alcune panchine. Soprattutto interventi previsti sono quelli di natura funzionale su più strutture del paese, per renderlo maggiormente fruibile per i visitatori, siano essi turisti, studenti o appassionati di escursionismo. Obiettivo fondamentale è quindi quello di potenziare l'offerta, in modo tale da consentire anche ai pellegrini che vogliono vivere l'esperienza del cammino di poter trovare una risposta adeguata alle loro esigenze. Struttura importante su cui si dovrà intervenire, secondo quanto previsto nella progettualità, è quella dell'ostello comunale. Progetto che metterebbe le basi per un rilancio dell'economia interna di questo comune. Tra le idee c'è anche quella di realizzare un punto di osservazione panoramica in via Ospizio e un Morales in via Archimede, ma si pensa anche al rilancio del castello di Ressuttano, che con questi interventi rivedrebbe di nuovo il suo splendore. Non resta che attendere l'esito del bando a cui il comune ha aderito.